G7 di Veneria e i grandi discutono il futuro del lavoro, mentre a Mirafiori si registrano altre frenate. Certo l'industria riparte, la tecnologia avanza, ma molte eccellenze della nostra città che hanno fatto storia sono in declino. Che succede in Europa con la Merkel vincente? Che succede nel mondo con preti rapiti e preti liberati? Che succede tra i giovani dopo l'incredibile omicidio di Noemi? Stiamo smarrendo un'altra generazione? Che succede nelle carceri italiane e che cosa succederà in Parlamento sullo Ius Soli, la chiesa impegnatissima? Storie belle, a Caramagnola una squadra di calcio con bimbi autistici. Aceva e rifugiati portano le medicine agli anziani malati delle colline del Monregalese e della Langa povera. Parte la pagina dei saperi, raccoglierà le idee e le iniziative, le provocazioni di università e Politecnico. Chiesa, c'è la due giorni dei sacerdoti per ripartire con il nuovo anno ancora più aderenti alla realtà. C'è l'ottobre missionario, storicamente la prima pagina della chiesa in uscita. C'è tra i personaggi Monsignor Barberis, a 50 anni dalla morte e c'è il confronto che continua sui canti da eseguire in chiesa. Oratori, San Salvario, l'oratorio diventa salotto nella Movida. Il 29 settembre in Largo Saluzzo si apre un ciclo di tre serate organizzate dal San Luigi, a Gesci, Scout, Mirafiori, la nostra strada nei paesi terremotati delle Marche. Provincia, Canavese e Valli, domenica 24 settembre, 16 chiese artistiche aperte, quattro itinerari a cura di volontari, comuni e parrocchie. Tutte rivoli alla scuola di Don Milani, Sacra di San Michele, patto regione comuni sul turismo. Sabato 23 settembre c'è Moncaglieri Comunità per riunire le realtà associative della città. La voce e il tempo, l'altro giornale.